Signore e signori, cari amici, abitanti del nostro borgo e dei borghi e delle contrade vicine, benvenuti alla 45esima edizione del Palio dei Castelli della città di Castiglione-Lona. Ricomincia da qui questa serata, in questo straordinario anfiteatro naturale. La serata conclusiva di questa 45esima edizione del nostro Palio. E questa sera, come accade ormai da 45 anni, faremo un salto indietro nel tempo, nel passato, per rivivere la magia e lo splendore di un'epoca lontana, il rinascimento italiano. Ed è per noi una grande emozione essere qui questa sera, anzitutto perché il Palio dei Castelli torna a rivivere dopo due anni di pausa forzata, ma ancora di più perché questo 2022 è un anno molto importante per Castiglione-Lona. Esattamente 600 anni fa iniziava la costruzione della collegiata ed intorno ad essa la nascita dell'intero borgo. E sì, è molto importante, noi lo vediamo qua. La nostra collegiata è da ben 600 anni che vede a su di noi e che ci segue e ci accompagna in tutti gli eventi che sono per noi fondamentali. Ma adesso non indugiamo oltre e iniziamo facendo e accogliendo nel nostro anfiteatro gli sbandieratori della città di Alba Borgo San Lorenzo. Tra gli squigli delle carine ed il rullo dei tamburi ecco che vediamo stilare dame, cavalieri, tabili, messi in liberi e giudani accompagnando gli sbandieratori che ci regaleranno lanci spettacolari, complessi scambi di bandiere e coreografie straordinarie dalle molteplici difficoltà tecniche. Da quasi 30 anni la compagnia degli sbandieratori colora con gli smalti bianchi e blu le più belle piazze italiane ed europee è per noi davvero un grande piacere riaverli con noi nel nostro anfiteatro naturale in questa bellissima cordice e con un cielo blu come i tratti loro fiammeggiati tra qualche istante li vedremo esibirsi in figure veramente articolate e vede della loro maestria. Signore e signori accogliamo con grande applauso con gli sbandieratori e i musici di Alba contro San Lorenzo grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.